Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Nebulose, vibrazioni, elettromagnetismo si traducono anche in onde, che si osservano meglio allontanandosi dalla Terra. L'industria europea sta ultimando la costruzione di due telescopi spaziali che serviranno a frugare nello spettro invisibile, all'occhio umano. L'Hershell Space Observatory sarà il più grande telescopio spaziale, il suo specchio di circa 3 metri e mezzo, almeno una volta e mezzo più grande di Hubble. Avrà una visione più chiara. L'Agenzia Spaziale Europea ESA ha sviluppato strumenti avanzati per cogliere la luce agli infrarossi delle stelle. ESA è un osservatorio agli infrarossi che potrà informarci molto meglio sulla formazione di stelle, pianeti e galassie. Un altro telescopio, Planck, fungerà da rincalzo ad Herschel. Con una missione diversa, punterà lo spettro di luce invisibile dei raggi infrarossi, quelli più antichi. Dovrà quindi fotografare l'universo iniziale di 14 miliardi di anni fa. E' ancora possibile perché la luce che si è generata all'inizio dopo il Big Bang esiste ancora nell'universo in forma di microonde che possono essere raccolte e misurate dagli strumenti di Planck. Il suo scopo è scannerizzare la volta celeste da mappare sulla base delle microonde cosmiche di sottofondo. Questa luce ci giunge dagli attimi iniziali dell'universo, una sorgente che ha molte informazioni sulla struttura del cosmo. Planck è il primo osservatorio spaziale che scrutta le microonde di sottofondo e il più sofisticato e ambizioso della categoria. Herschel e Planck saranno messi in orbita dal vettore Ariane 5 dalla base di Coru nella Guayana francese. Il loro lancio è previsto nel 2009. Si tratterà di una messa in orbita abbinata, due telescopi insieme, questo per far scendere i costi. Credo che Herschel e Planck siano lanciati insieme anche al di là delle ragioni economiche. Raggiungeranno orbite quasi simili attorno al punto di Lagrange sopra la Terra per andare poi lontani dal pianeta, fino a un milione e mezzo di chilometri, ma sempre ruotando sullo stesso punto. In questo senso voleranno appaiati. Un lanciatore Ariane 5 li porterà fino al punto in cui continueranno da soli dopo due ore e mezza di volo. Questo è il modello del razzo nella cui ogiva i telescopi verranno collocati. Si nota che sono uno in cima all'altro e quando verranno liberati della loro capsula, quella che li contiene e che si aprirà, il primo ad uscire sarà Herschel e il secondo Planck. La loro destinazione è L2, il secondo punto di Lagrange, che è all'opposto del Sole, 4-5 volte più lontano da noi della Luna. È un'ottima collocazione per osservare il cielo, al riparo dalla luce del Sole e lontani anche dalla forza di gravità della Terra. Il punto di Lagrange è uno di quelli dello spazio a cui le forze di gravitazione e quelle centrifughe si compensano. Herschel, osservatorio spaziale agli infrarossi con un grande specchio, seguirà le istruzioni impartite da Terra e punterà precisamente ai corpi celesti dentro e fuori la nostra galassia distanti anche 10.000 milioni di anni luce. Lo specchio di Herschel gli consente di leggere le frequenze degli infrarossi remoti e quindi sarà in grado di vedere attraverso le nubi di gas e di polvere che circondano pianeti e stelle nascenti. Un lavoro che fino ad oggi telescopi spaziali non hanno potuto fare. Quando le stelle si formano dagli ammassi di gas inizialmente implodono e si surriscaldano innescando alla fine processi atomici che fan sì che nasca la vera e propria stella ma tutto questo avviene all'interno delle nuvole, non si nota dal di fuori perché la luce, il calore che è emesso dalle stelle di nuova formazione non può sgorgare. Con un recettore di questo genere gli infrarossi si può vedere attraverso le nuvole, se si vuole. La luce visibile è raccolta da telescopi come Hubble. Gli infrarossi li legge Herschel. Su queste frequenze l'osservatorio Planck riuscirà a vedere la prima luce scaturita dal Big Bang il fantasma iniziale dell'universo che ha determinato tutta la storia. Si tratta di una luce irradiata dal plasma esistito 300.000 anni dopo la nascita dell'universo dopo quello che si chiama Big Bang e che ci giunge direttamente senza ostacoli. Le minime variazioni che si possono scoprire nelle microonde di fondo sono i primi mattoni delle strutture galattiche che osserviamo nell'universo di oggi. Diversamente da Herschel, Planck si dedicherà invece ad una mappatura generalizzata dell'universo. L'intero telescopio ruota lentamente sui suoi assi, così, e ruota in sostanza mappando tutto attorno il cielo e raccogliendo la luce da un cerchio che descrive nel cosmo. In questa operazione si muove in un'orbita attorno al Sole e quindi questo grande cerchio lo porta a tracciare una volta nell'universo. Così facendo, dopo sei mesi, ha mappato l'intera cupola celeste sopra di lui, rappresentandola come un grande affresco. Osservando le stelle con nuovi colori, intercettando le onde invisibili della luce da un milione e mezzo di chilometri dal nostro pianeta, ecco un sogno che diventa realtà per tutti gli scienziati, una ragione per celebrare le nuove conquiste della ricerca europea. Grazie. 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 Grazie.